Il volontariato e l'azienda sanitaria tendono una mano ai soggetti più fragili. Da qualche settimana è infatti partito il servizio di consegna domiciliare di farmaci ai pazienti cronici associati, cui farmaci salvavita erogati soprattutto dalla farmacia dell'Astin via Alfano, struttura che denota problemi di accessibilità segnalati all'associazione piattaforma solidale che si è attivata per un servizio ben accolto dall'azienda sanitaria e che ora trova il braccio operativo su scala provinciale nei volontari di Hauser. L'associazione ha accolto per prima la richiesta che veniva da alcuni utenti che si erano trovati in difficoltà nell'andare a ritirare farmaci salvavita, fra l'altro non dimentichiamo quelli che vengono distribuiti solo dalla farmacia dell'azienda sanitaria, quindi che non possono essere reperiti nelle farmacie normali. e avevano trovato difficoltà perché la struttura che fornisce questi farmaci aveva dei problemi di accessibilità. Abbiamo cercato di risolvere il problema contattando l'azienda sanitaria e cercando un accordo anche con l'Hauser, perché piattaforma solidale fa tante iniziative ma non ha tanti volontari che possano poi gestire i servizi o dare una risposta concreta. Allora abbiamo immaginato questa collaborazione con l'Hauser che andrà oltre questo servizio e sarà una collaborazione da tutto campo per attivare altre situazioni in tutta la provincia di Peveolubi. È già partito il servizio ma dobbiamo ancora definire alcuni ambiti operativi, però stiamo dando le risposte ai primi utenti che hanno questa necessità. È una cosa che a noi fa molto piacere, come dicevo, perché dà una risposta in più alle persone in difficoltà, fragili, che in questo momento sono quelli più deboli e che hanno bisogno di supporto in tutti i modi. Ecco, noi un piccolo contributo con i nostri mezzi e i nostri volontari lo diamo volentieri. L'Asp ha risposto in maniera rapida e abbiamo addirittura sottoscritto un protocollo d'intesa per attivare questo servizio che partirà dalle persone che usufruivano del servizio di Via Alfano per poi estendersi anche ai soggetti che sono da soli in casa, disabili, anziani, che in alcune situazioni fanno difficoltà ad andare in farmacia. A quel punto interveremo noi. Abbiamo già fatto alcuni accordi con loro, in particolare quello orientato alla distribuzione dei farmaci al domicilio per i soggetti anziani che non riescono ad accedere alle nostre farmacie e crediamo che questo sia il primo punto di partenza per una collaborazione sempre più stretta. Il volontariato è importante perché ci fa da terminale intelligente per rappresentare i bisogni delle persone più fragili e tramite loro possiamo arrivare proprio a queste persone più fragili.